Il tabloido People raccoglie la testimonianza di una fonte anonima vicina alla coppia formata da Orlando Bloom e Katy Perry. Pare che, sebbene la loro storia sia partita in sordina, il D2 abbia davvero intenzioni serie. Ex marito di Miranda Carey 2 si sono lasciati burrascosamente, ma sono poi riusciti a restare amici. Orlando avrebbe intenzioni serie con Katy, al punto da desiderare degli altri figli. Non sono ancora fidanzati ufficialmente, ma procedono per quella strada. Orlando è entusiasta di Katy, pensa che sia sorprendente in un milione di modi. Gli piacerebbe avere un legame stabile con lei e avere altri bambini. Non è mai stato così serio con una ragazza dalla fine della relazione con Miranda. Il divorzio da Russell Brando l'ha sconvolta emotivamente. E adesso non ha intenzione di prendersi un enorme impegno come il matrimonio, se non è certa che lui sia quello giusto. Vanno molto d'accordo, Katy gli lascia il suo spazio e sono entrambi molto indipendenti. Ma il loro è un rapporto serio. Il D2 olivo odiano è già stato sposato, ed è padre di Flynn, il figlio avuto da Miranda Carey. La crisi tra loro divenne nota nel 2012, ma solo nel 2013 è stato ufficializzato il divorzio. Pare che alla base della decisione di allontanarsi ci siano stati una serie di tradimenti, l'ultimo dei quali di Miranda che avrebbe avuto un flirt con Justin Bieber. Il cantante e Orlando sono stati protagonisti di una rissa Ibiza cominciata proprio a causa del rapporto tra il giovane artista e Miranda, rissa al termine della quale i due si sono allontanati e la Carey è tornata vicina al suo ex, ma solo in qualità di amica. Oggi Orlando è felice accanto a Katy Perry, ma continua a rimanere vicino a Miranda che resta la madre di suo figlio. Chi se ne frega!